Che roba brutta ragazzi, che roba veramente brutta, orrida, o scena anche perché no, che fondamentalmente sono sinonimi a modo loro contestualizzandoli a questa partita della Juventus perché davvero oggi di veramente salvabile penso che non ci sia nulla. Poi attenzione facciamo la premessa iniziale che comunque ci può stare, ci può stare assolutamente e capisco anche chi dice queste cose ovvero che comunque non bisogna fasciarci la testa per delle amichevoli, magari anche no perché sono un pochino imballati dalla preparazione e quant'altro. Io guarda da un lato sono anche completamente d'accordo, è inutile fasciarsi la testa quando le partite fondamentalmente contano zero allo stesso tempo, però c'è anche comunque da dire che quella di oggi era, non dico l'antipasto alla prima di campionato, però comunque era l'ultima partita. Ecco, la prossima volta che vedremo la Juventus la vedremo in una partita ufficiale dove non bisognerà sbagliare, anche perché comunque l'abbiamo visto l'anno scorso, hai bollato le prime 3-4 partite e sin da subito sei rimasto fuori da tutte le possibili corse Scudetto. Quest'anno nel momento in cui dovresti evitare, se l'ultima partita prima dell'inizio della stagione ufficiale la perdi malamente, perdi malamente senza tra l'altro nulla di buono, beh, non che ti devi fasciare la testa ma che quantomeno arrivi a Juve Sassuolo con il culo bello stretto, questo direi assolutamente sì. Sì, perché tra le altre cose, oltre alla sconfitta con tanto margine, dove tra l'altro, cazzo, la tripletta di Morata, ci mancava solo questo a condire la partita di merda, cioè la tripletta di Morata, che veramente, intanto avevo visto che la Juventus non aveva preso, cioè, aveva preso l'ultima tripletta in Juventus Fiorentina 4-2, no? Fiorentina Juve, la tripletta di Giuseppe Rossi, cazzo, qualche anno dopo, cos'è, 8-9 anni dopo la tripletta di Morata, non ce la meritavamo, probabilmente, non ce la meritavamo neanche per sbaglio. E va bene così, tanto quella è andata, tanti saluti e buon viaggio. Quello che invece rimane è che purtroppo oggi davvero, cioè, non salvi nulla. Per l'ennesima volta, tiri in porta pressoché zero. Cioè, ha fatto un tiri in porta Miretti, quindi sta a significare che è arrivato nel secondo tempo, neanche particolarmente pericoloso. Cioè, è un tiri in porta solo ed esclusivamente da statistica. Vai a vedere, tiri in porta 1, inutile, parabilissimo come è fatto, punto. E soprattutto, dietro, ragazzi, hai ballato la rumba per 90 minuti. Cioè, per 90 minuti, il primo tempo sicuramente, quantomeno il primo tempo poco ma sicuro, dove si è chiuso per 2-0, inspiegabilmente, considerando che poteva essere tranquillissimamente un 4-0, ma per fortuna ci ha messo una pesta Scesni con una parata della Madonna, che non so come abbia fatto su Koke, se non ricordo male, e un rigore parato su Joe Felix. Altrimenti, cioè, dopo 40 minuti era 4-0 e tanti saluti, e tanti saluti. Ma oltre a quello, cioè, veramente, zero gioco, zero idee, zero intensità. Nel momento in cui prendi questa somma di gol, la difesa lascia desiderare. Nel momento in cui fai un tiro in porta, tra l'altro di un centrocampista che entra nel secondo tempo, si intuisce, quantomeno, che a livello offensivo è stato fatto molto, molto poco, e quel poco che è stato fatto molto, molto male. Per l'ennesima volta abbiamo visto un Vlaovic molto imballato. È vero che rispetta agli altri un pochino indietro, però è il solito discorso. Come per Vlaovic, stesso discorso per tutti gli altri. Spero che possano essere pronti per il 15. Al 15 manca una settimana. E quindi nel senso, boh, speriamo, speriamo, è una speranza. Non mi voglio fasciare la testa, perché appunto, come abbiamo detto prima, è un amichevole. Fortunatamente non hai buttato via niente, con una sconfitta pesante, inamichevole. Però, cazzo, lo dici, considerando che la prossima volta è una partita ufficiale, dove non dobbiamo fallire, dove non dobbiamo topare, non dico andiamo a dominare, ma neanche da dire facciamoci umiliare. Ecco, una via di mezzo si poteva forse, magari, no? Cercare e presumibilmente trovare. È vero che tra ieri e oggi praticamente tutte le squadre italiane hanno perso contro squadre spagnole. L'Inter ne ha presi quattro dal Via Real, la Fiorentina ha perso contro il Betis, l'Atalanta ha perso contro il Valencia. Noi abbiamo perso, e sono oramente, contro l'Atletico Madrid. E va bene, magari tutte le squadre italiane, per diversi motivi, sono un pochino più indietro rispetto a quelle spagnoli. Però uno cercava, no, di trovare la fiducia, l'entusiasmo. Oh, che bello, dai, tra una settimana si inizia, non vedo l'ora. Dopo aver visto sti 90 minuti, siamo un pochino tutti sul chi va là. Speriamo, no, che passi lentamente questa settimana e che soprattutto si lavori tanto e bene in allenamento e sul mercato in questa settimana. Succederà? Non lo so. Già si sta parlando di un Kostic che potrebbe arrivare domani, speriamo, anche perché quella zona di campo c'è bisogno di qualcuno, c'è bisogno di qualcuno. Chiese infortunato, che ne è squalificato, ma che se non fosse squalificato ce ne sarebbe bisogno lo stesso. Sule, oggi, purtroppo, ha dato dimostrazione di essere ancora tanto, ma tanto acerbo. E quindi, ragazzuoli, insomma, c'è da fare, c'è da fare tanto. La fortuna, un lato positivo che potremmo vedere o cercare di trovare, quantomeno, è che c'è margine di lavoro. Sul mercato, in campo, do completamente ragione. Però sta partita ti ha fatto indubbiamente cascare i coglioni. Ecco, questo, bene o male, non ce lo possiamo nascondere. Cazzo, abbiamo reso l'Atletico Madrid una squadra, c'è, di calcio totale. Simeone sembrava un mix tra Klopp e Guardiola vedendo la partita che hanno fatto. E loro non sono così. Sappiamo che loro non sono così. Siamo noi che, stranamente, abbiamo detto fatelo. E loro l'hanno fatto. Poi, se dietro sei messo come sei messo, la paghi. Se davanti sei messo come sei messo, non la butti dentro. E tutto questo ti fa un pochino cascare i maroni, via. Non ce lo possiamo negare. Mi è piaciuto, quantomeno, Gatti. Quando è entrato, mi è piaciuto. Anche perché, veramente, Bonucci particolar modo nel secondo gol, ecco. Soprattutto nel secondo gol, anche se, pur in altre circostanze, non è che abbia particolarmente brillato. Ti ha fatto dire un attimino, porca puttana. Ma Bonucci, come tanti altri, è che spesso e volentieri sono i soliti noti. Ecco, non ce lo possiamo nascondere. Però, veramente. Il discorso, cioè, fondamentalmente, ragazzuoli è quello lì. Che, per quanto, da un lato, posso capire che è inutile fasciarsi la testa, no, prima di rompercela, effettivamente, dato che oggi non ti sei rotto niente, da tifoso un 4-0, che poteva essere tranquillamente un 6-0, se non fosse stato per Cezni, dove tu, pericoloso, pressoché mai, ad una settimana dall'inizio del campionato, ti fa prendere un pochino male. Questo, diciamocelo, ti fa prendere un pochino male. E speriamo, speriamo, a culo stretto verso Juventus-Sassuolo, strettissimo, da mangiarsi 5-6 limoni, praticamente, non deve passare uno spillo. Ragazzuoli, fatemi sapere qui sotto la vostra con un commento. Io vi mando un grosso abbraccio, tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve!